Aspettando il Natale, insieme per sopravvivere. Un gioco di parole che racchiude da un lato la grande volontà di chi si prodiga per affrontare una malattia come l'autismo. Dall'altro l'evento promosso dall'associazione Autismo Abruzzo Comitato Montinori Onlus. Il prossimo 5 dicembre, dalle ore 17, presso il Museo archeologico Savini di Teramo, alcuni attori della famosa soap opera Vivere collaboreranno ad una raccolta fondi. Parteciperanno anche la Mobeter Band e la Ugo Minuti Band, giornata che si concluderà con una cena di beneficenza. Lo scopo è finanziare il primo modulo del corso di formazione Educatori per soggetti con sviluppo atipico, che inizierà il 10 dicembre presso la Biblioteca Provinciale, durerà sette incontri e sarà tenuto dalla dottoressa Ida Capece, psicologa specialista in psicoterapia della famiglia. Corso patrocinato da Comune, Provincia e Centro Servizio Volontariato di Teramo. La prima cosa che abbiamo fatto è un evento per far conoscere a tutti le nostre situazioni, le nostre realtà che per l'appunto sono realtà di disagio, di disagio familiare e di disagio per i nostri ragazzi perché non hanno terapie adeguate e perché non sono trattati in modo adeguato. L'associazione si è costituita lo scorso mese di settembre al fine di colmare la carenza di strutture tese ad assistere, sostenere e guidare le famiglie e i ragazzi con rieducazione sensoriale, terapie psicomotorie per il raggiungimento dell'autonomia personale e sociale. L'autismo è una patologia silenziosa, è una patologia che non si conosce, una patologia che per lo più dà più fastidio parlarne che magari affrontarla perché si conosce poco. Però noi ci siamo uniti con l'ospedale Le Molinette di Torino, il dottor Balzola, abbiamo dei validi collaboratori come questo dottore che sta studiando proprio i nostri ragazzi, il dottor Montinari, abbiamo l'equip multidisciplinare di Sorrento, delacato, car delacato che viene dall'America e più abbiamo anche una dottoressa valida di Brescia che ci insegnerà a educare i nostri figli con l'ABA e a riportarli un pochino verso la normalità.